Buonasera a tutti, benvenuti all'occasione di campione d'Italia per questa terza giornata dell'Italia Poker Open la decima edizione da un milione di euro garantito bene, io presento subito lo staff che vedete sul palco abbiamo i direttori, Raffaele Maria Di Nicola, il nostro Fabiano Stefanini e Cristian Scalzi al mio fianco c'è un uomo per il quale viene subito un grande applauso il country manager Tita Betti ha voluto l'ipodo, un milione di euro garantito Raffaele Nakaschera ci ha perduto e direi che la sua scommessa è stata assolutamente vincente e ovviamente grazie a voi che avete fatto in modo di renderla tale beh, un milione di euro garantito va in 550, era chiaro, bisognava arrivare praticamente a 2000 iscritti la notizia è che ovviamente i numeri sono chiari, li abbiamo ampiamente superati non vi do un numero ufficiale, vi posso dire che superando i 2000 è stato già un risultato è stato sensazionale, ma si può iscrivere fino alla fine del terzo livello è ovvio che questa decime edizione dell'IPO, battendo se stessa, è entrata nella storia del poker italiano raccogliendo il maggior numero di iscritti in un torneo mai disputato nel nostro territorio come ben sapete Cassino di Campione d'Italia, Campione d'Italia è un'inclave in provincia di Nomo quindi siamo a tutti gli effetti in Italia, abbiamo fatto questo record tutto italiano però prima di dire quale sarà, come in una grande corsa, il tempo che rimarrà nella storia aspetteremo la fine del terzo livello voi però, essendo qua oggi, siete già entrati a tutti gli effetti nella storia del poker italiano e proprio per questo motivo vi invito a farvi un grandissimo applauso conveniente di voi e grazie per essere qui alla discredizione dell'Italia in Poker Opera e il ringraziamento va ovviamente ad Andrea Petti, al suo fantastico staff che ha lavorato alla cremente, non solo in questa edizione, ma in questo biennio, per costruire un evento che potesse essere un riferimento del poker in Italia il grandissimo staff lo vedete rappresentato da Andrea, lo vedete rappresentato da tutti i dealer che stanno lavorando ai tavoli con la massima professionalità a coloro che sono magari in un angolo della sala per preparare le chip, per preparare l'ottimizzazione di tutto questo fantastico prodotto e a proposito di angoli, quello che vedete di fronte a me, dove sto guardando ora è l'angolo griffato Titan Bet tutti i servitori che sono qualificati tramite i satelliti su Titan possono recarsi là per avere dei meravigliosi omaggi dei meravigliosi punti di riconoscimento e di riferimento per quanto riguarda questa fantastica room Titan Bet.it e ora abbiamo tre rappresentanti dello staff come detto, Raffaele Maria Di Nicola, Fabiano Stefanini e Cristian Scalzi la palla passa al nostro Fabiano Stefanini per presentarvi tutte le dinamiche tecniche di questo ritmo per consentirvi di giocarlo al meglio e poi ovviamente la palla passerà a Raffaele Maria Di Nicola che avrà l'onore e il piacere di dare lo sciacolo up and in a questa magica giornata che sancisce un risultato storico nel poker italiano per quanto mi concerne a tutti voi i più sinceri auguri di un buonissimo poker e soprattutto di buon divertimento complimenti ancora